L'ex teatro in fiera, abbandonato dalle istituzioni che l'hanno lasciato marcire, continua ad essere al centro delle attività culturali promosse dal collettivo di sinistra che l'ha occupato il 16 dicembre scorso e l'aver riaperto i cancelli della struttura, ribattezzata Teatro Pinelli, ha riaperto anche il dibattito sul futuro di uno dei simboli di una città che lascia morire anche i luoghi di cultura. Il prefetto Stefano Trotta ha convocato per il prossimo 7 gennaio un incontro istituzionale per definire il percorso che dovrebbe portare alla riqualificazione del teatro. Ma il tavolo tecnico dovrebbe essere utile anche ad affrontare la questione del mancato utilizzo dell'intera città della fieristica di proprietà dell'autorità portuale che per decenni messinesi hanno potuto visitare solo in occasione della fiera campionaria internazionale la cui storia sembra davvero essere arrivata al capolinea. Nuovi capitoli dunque si iscriveranno all'inizio del 2013 e per quanto riguarda il teatro, di cui si è tornati a parlare solo grazie all'occupazione, la speranza del collettivo di sinistra è che non venga tagliato fuori dalla gestione proprio chi ha riacceso i riflettori sulla struttura che fino a pochi giorni fa le istituzioni hanno utilizzato solo come ripostiglio.